Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. In FIPILI ci sono code a tratti per traffico tra Ginestra e Firenze Scandici verso Firenze. Prudenza per pioggia su gran parte della regione, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per le estali sull'Aurelia corsia chiusa per cantieri, tra il bivio per Magliano in Toscana e il bivio per Ansedonia Nord in direzione di Roma. Sempre sull'Aurelia corsia chiusa per un veicolo fermo o in avaria all'altezza di Follonica Nord in direzione Ponte San Luigi, allacciamento a 10 Genova 20 Miglia. Ultima pagina per il traffico ferroviario regionale 11851, la Spezia Centrale e Pisa Centrale sta viaggiando con 22 minuti di ritardo. L'arrivo a destinazione è al momento previsto alle 12.01, salvo recupero. Muoversi in Toscana Inf è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!